Sì, anch'io avevo notato la cosa studiando, allora effettivamente nel concilio di Gerusalemme c'è una presa di posizione di tipo magisteriale, lì se vi ricordate c'è la prima anima diretta da Giacomo, quindi l'anima più giudeocristiana e dall'altra parte c'è Paolo, Barnaba che portano la loro esperienza di tanti convertiti dal cristianesimo, l'ago della bilancia è Cefa che ricorda ciò che era avvenuto a casa di Cornelio, in Atti X se vi ricordate era avvenuto che Pietro, chiamato da Cornelio, entrambi sotto la spinta dello Spirito Santo, Cornelio perché aveva sentito, vai invitare Pietro a casa tua, Pietro perché aveva visto la visione della tovaglia piena di animali puri e impuri, entrambi spinti dallo Spirito Santo erano giunti a una vera e propria conversione dell'intera famiglia, ma nel momento in cui Pietro anche lì deve dire la vita di Gesù in poche parole, si accorge che avviene un segno del cielo, cioè questi pagani, Centurione Cornelio e la sua famiglia iniziano a pregare in lingue, da qui il ragionamento di Pietro, come faccio a non dare il battesimo a costoro se lo Spirito Santo è già sceso su di loro, sta già agendo in loro, dà il battesimo e questo aveva provocato non una gioia all'interno della Chiesa ma subito delle reazioni, reazioni di questa parte di giudeocristiani, tu Pietro sei andato a casa e hai mangiato, ecco la tovaglia no? e hai mangiato non osservando la legge di Mosè, le prescrizioni alimentari, portando appunto la testimonianza di un evento dello Spirito Pietro spinge la Chiesa a fare questo passo di cui si parlava, vale a dire sia la tendenza più giudeocristiana che la tendenza più paolina si accordano ma non mi sembra proprio un compromesso, nel senso non siamo proprio a metà, no, vince la prospettiva di Paolo o meglio vince perché questo è ragionare proprio la maniera umana, lo Spirito Santo è noi, così inizia il decreto conciliare che viene mandato in giro nelle comunità cristiane lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso che insomma non si debba importunare i pagani che vogliono diventare cristiani con tutta l'osservanza della legge, alcune prescrizioni particolari anche di una certa gravità però il resto se non è la loro tradizione culturale e religiosa continuino a vivere secondo i loro costumi, basta che vivano come Gesù all'insegna della carità però come giustamente si diceva siamo nel 50, le lettere di Paolo sono tutte successive a questo e nelle lettere di Paolo diventa sempre più importante questo scontro tra le due tendenze, a me non sembra però dopo lì bisogna, cioè a me sembra che il confronto col concilio Vaticano II non sia tanto sui contenuti, non ritroverei a meno che proprio bisogna dire cambiando tanto che si deve cambiare possiamo rintracciare qualcosa di quelle due anime, no, la prospettiva del concilio Vaticano II è qualcosa di molto più recente, è un segno dello spirito dei nostri tempi però è vero quello, ancora oggi si è lì a dare ascolto a tanti che fanno apposta contrapporre all'interno della Chiesa delle tendenze, allora è vero che nel concilio Vaticano II c'era una tendenza che, ma in nome del Vangelo io non me la sento di dare un'interpretazione politica o semplicemente sociologica, in nome del Vangelo dicevano non possiamo abbandonare la tradizione vivente della Chiesa e dall'altra parte c'era l'anima di Giovanni XXIII e di tutto tanti teologi e vescoi che dicevano ma la Chiesa per annunciare Gesù nell'oggi deve aggiornarsi, questa era la grande categoria, no? Allora io vedo un'analogia tra i due, non tanto tra il concilio di Gerusalemme e il concilio Vaticano II, non tanto dal punto di vista dei contenuti che mi sembrano davvero molto diversi, ma dal punto di vista, come dire, che nella Chiesa c'è una santità di fondo che è dovuta allo Spirito Santo e poi ci sono tante resistenze peccaminose che sono dovute a noi. Cioè questo che è avvenuto nella Chiesa delle origini dà proprio l'impressione che dobbiamo superare un'idealizzazione della comunità cristiana che era un cuor solo, un'anima sola. Sì c'era questa tensione ma poi c'era anche Anania e Saffira e poi c'erano questi scone, questo Paolo che non è nato santo, che urla cani ad altri missionari, immaginate un vescovo che urla cani a dei missionari oggi, insomma qualcosa di davvero scandaloso, eppure è avvenuto questo. Allora nella Chiesa c'è questo Spirito Santo che spinge, spinge verso dove? Non verso un progresso idealizzato anche lì, ma spinge a Gesù, spinge non a tornare indietro, ma spinge al centro, Gesù è un centro della storia, no? Ecco lo Spirito Santo fa questo. E poi ci sono degli uomini e delle donne più docili allo Spirito Santo e altri uomini e altre donne che resistono allo Spirito Santo, talvolta in maniera anche ipocrita. Anania e Saffira, questa è la grande accusa che è stata rivolta a quei due, erano degli ipocriti. Altre volte addirittura in nome del Vangelo. E' perché il tentatore ci sa fare. In nome del Vangelo si spacca la Chiesa. Però prenderne coscienza ci aiuta a dire cerchiamo di stare dalla parte dello Spirito Santo. Ecco, cioè prendere consapevolezza in maniera realistica ci porta a distinguere, ancora una volta, il peccato e bisogna dire nella Chiesa c'è questo peccato, ci sono queste brutture, cioè senza peli sulla lingua e d'altra parte però la compassione di Gesù nei confronti di coloro che pur credendo come noi sbandano. E allora lì bisogna innescare delle dinamiche di riconciliazione, di purificazione delicatissime perché, ma me ne sono accorto proprio nella mia esperienza personale, tante cose si fanno in nome del Vangelo. E quando si arriva lì, estrarono, tutte e due inneggiano il Vangelo e sono supposizioni contrarie. Ecco, ma è ciò che avveniva a quei tempi. I missionari giudaizzanti avevano tutto un aspetto che vedremo di contrasto a Paolo usando delle armi che Paolo definisce carnali. Cioè, in ultima istanza, mettevano in giro delle voci malevole contro quest'uomo che non erano per nulla vere. Questo è sbagliato, profondamente sbagliato, questo è peccato. Ma d'altra parte bisogna riconoscere in loro che quell'atteggiamento lì della fedeltà alla tradizione giudaica poteva anche obnubilare il loro discernimento. Cioè, loro combattevano per rimanere fedeli a Dio. È paradossale questo, però è quello che è avvenuto. E quindi lì si tratta ogni volta di distinguere, no? Di far discernimento. Questo è peccato e bisogna superarlo. Bisogna riconciliarsi. Bisogna perdonare. Altre cose bisogna verificare come è possibile prendere, non so, degli aspetti positivi della tradizione giudaica e mantenerli nel cristianesimo, nonostante questo traghettamento del cristianesimo in un'altra cultura che non è quella ebraica. Ci sono dei riti bellissimi all'interno del giudaismo, ad esempio, che potrebbero essere traghettati nel cristianesimo. dei riti familiari che noi non viviamo e che forse potremmo prendere dai nostri fratelli maggiori. Però, appunto, un conto è questo, un conto è il vivere facendo leva sul proprio orgoglio. Quello è da superare.